Salute, Batman. Come stai? Come sto? Guarda il tabellone, butto. Jusek controlla i corridori. Il lancia, mancata per un pelo. Primo strike per Serrano. Il lanciatore non perde tempo, ha deciso di far fuori il nostro Pedro. Dà la sua occhiata in giro. E spara! Accidenti, veloce, eh? Due bombe intelligenti e a Serrano non resta che un'ultima possibilità. Ragazzacci! Serrano torna sul piatto! L'ultimo lancio, amico, è stato bellissimo. Jusek riceve il segnale e si prepara al lancio. Ed ecco il missile per Serrano. Accidenti che botta! È sparita nella notte! Incredibile! Eccola, è lassù! Sulla tribuna dei Bruce! Sì! Questa è la forza del pensiero. Sì! Gran bel colpo, piccolo! Sei grande! Gli indians vanno in vantaggio per 6 a 5! Guarda che scrivono sul tabellone. Adesso! Mio Dio, che schifo!